Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati in questo nuovo video dove voglio farvi vedere, magari molti di voi lo conosceranno, ma voglio farvi vedere come trovare facilmente gli schizzi cromo e come trasformare velocemente le armi in cromo. Quindi andiamo a distruggere tutti gli oggetti, quelli almeno distruttibili, cromati e vedete che mentre lo distruggiamo ragazzi escono fuori gli schizzi cromo. Benissimo, li prendiamo, andiamo su una chest che non è già cromo, andiamo a buttarci sul cromo ragazzi, la chest diventa cromo e quindi anche le sue armi all'interno diventeranno cromo, certo non tutte, solamente quelle che il game ha detto che possono diventare cromo, come ad esempio la mitraglietta che abbiamo appena visto non diventerà mai cromo ragazzi, quindi ci sono le predefinite. E quindi come vi dicevo andando a distruggere gli oggetti cromati ragazzi potete prendere gli schizzi cromo e quindi sono diciamo pressoché infiniti. Bene, per questo video è tutto, spero vi sia stato utile ragazzi, ci vediamo al prossimo, un abbraccione, un like, condividete il video e iscrivetevi al canale.